ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di do it yourself ispirazione oggi vi mostrerò altre due nuovissime pagine da colorare riempire insieme prima di tutto tappezzeremo questa questa pagina che insomma è una sorta di stanza qui potete vedere anche la porticina e prima di tutto avevo pensato a decorarla con dei fiori però visto che i fiori non li abbiamo più ho pensato ad altro ecco ho trovato questo bellissimo disegnino che naturalmente poi su cui disegneremo la sagoma della nostra porta per renderlo ancora più bello e poi in secondo luogo proveremo a colorare questa bellissima pagina però con un limite ossia il limite del tempo utilizzando questi bellissimi tratto pen come potete vedere sei colori quindi in cinque minuti di tempo e vediamo un po' quanto riusciremo a disegnare ma prima di tutto iniziamo con la nostra porta ecco qui ora che abbiamo ridisegnato la sagoma anche della porta possiamo andare ad incollare la nostra decorazione e magari naturalmente possiamo rendere anche la porta apribile per cui utilizzando una semplice forbice e ritagliando un pochino la sagoma della nostra porta ecco qui che la nostra porta si può aprire in tutta tranquillità per cui adesso con l'aiuto di una colla andiamo ad incollare il tutto ecco qui come potete vedere la nostra decorazione finita e come potete vedere non ho tagliato nulla ma ho semplicemente ripiegato sull'altro lato del nostro foglio e ora che naturalmente la nostra stanza è decorata facciamo una bella foto così che anche voi la possiate vedere ancora meglio naturalmente poi scrivetemi nei commenti se questo tipo di decorazione vi piace o se magari avete altri consigli per altre decorazioni ancora più belle mentre ora andiamo ad impostare il nostro coronometro su 5 e vediamo quanto riusciremo a colorare come potete vedere il mio tratto pen blu e rosa non vanno più tanto bene per questo motivo ho preso altri due colori ecco qui adesso impostiamolo e vediamo cosa riusciamo a fare in cinque minuti solamente in cinque minuti non vanno più non vanno più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi raccomando non dimenticatevi di andare a vedere anche gli altri nostri video e naturalmente se vi è piaciuto anche questo video regalatemi un mi piace, non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi e naturalmente ci vediamo sempre qui la prossima volta su Do It Yourself Ispirazione per nuovi video ancora più originali. Ok? Ciao!